Ci scusiamo per l'inconveniente, però ecco, ancora una volta vorrei tranquillizzare tutti, non c'è nessun rischio per la salute. Soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-covid. Questo quanto è successo a sei pazienti al centro vaccinale di Camucia. Al termine della seduta vaccinale della mattina, il personale ha consegnato ai colleghi del pomeriggio tre siringhe già pronte del vaccino Pfizer e la fiala vuota per il controllo dell'otto. Nel predisporre poi il materiale per la seduta pomeridiana, il personale per un errore ha inserito la dose di fisiologica che serve per la diluizione anziché nella fiala piena in quella vuota. Poi ha aspirato chiaramente, a quel punto lei si è ritrovata con nove dosi pronte di vaccino. A quel punto, quando ha finito di preparare tutte quante le dosi, si è resa conto che c'erano troppe, va bene, cioè le risultavano troppi vaccini rispetto alle fiale che aveva. A questo punto è stato lanciato l'allarme e sono scattate tutte le operazioni. Abbiamo avvisato tutte le persone che riguardavano praticamente quella fascia oraria e quindi adesso la prossima settimana li dovremo richiamare, tra otto giorni faremo un prelievo ematico per capire appunto come sta il titolo anticorpale e poi su quello cercheremo di capire chi ha avuto praticamente le tre dosi integre che erano provenienti dal turno della mattina e chi invece ha avuto la somministrazione della soluzione fisiologica. L'ASL adesso si sta occupando anche dei possibili problemi che riguardano la validità del Green Pass. Sto predisponendo gli atti per dare loro una esenzione che duri esattamente il periodo di tempo che abbiamo da qui al prelievo e l'eventuale somministrazione della seconda dose in modo che loro non subiscano problemi anche per quanto riguarda il rilascio del Green Pass.